Fonderie Limone Moncalieri, 17-22 gennaio 2023. Repliche accessibili con soprattitoli in italiano e italiano semplificato, audio introduzione e tour tattile. Antigone e i suoi fratelli. Alle Fonderie Limone di Moncalieri va in scena lo spettacolo Antigone e i suoi fratelli, adattamento della tragedia greca di Sofocle con la regia di Gabriele Vacis. Le repliche dal 17 al 22 gennaio saranno accessibili tramite soprattitolazione in italiano e in italiano semplificato su smart glasses e smartphone forniti dal teatro e tramite audio introduzione. Il tour tattile si terrà venerdì 20 gennaio alle ore 18. Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari, dal martedì al venerdì ore 20 e 45, sabato ore 19 e 30, domenica ore 15 e 30. La durata è di un'ora e trenta minuti senza intervallo. Trama e personaggi. Antigone e i suoi fratelli è una tragedia greca di Sofocle, rappresentata per la prima volta ad Atene nel 442 a.C. La storia si svolge in Grecia, nell'antica Tebe, città a nord di Atene. Edipo, re di Tebe, ha quattro figli, Eteocle, Polinice e le sorelle Antigone e Ismene. Edipo è ormai pazzo e cieco e non può più governare. I suoi figli maschi, Eteocle e Polinice, si accordano per governare a turno, un anno ciascuno. Ma dopo il primo anno, Eteocle non vuole cedere il trono e Polinice arma il suo esercito per invadere la città. Giocasta, la loro madre, li fa incontrare per trovare un accordo. I due fratelli, però, si sfidano a duello e nel confronto entrambi muoiono. Lo zio Creonte diventa il nuovo re e decide che Polinice non ha diritto a essere sepolto perché è un traditore. Antigone si ribella a questa decisione e cerca di dare giusta sepoltura al fratello. Si tratta di un'opera sempre attuale perché Antigone rappresenta una gioventù consapevole e combattiva che si oppone alle decisioni prese dai potenti e ai compromessi. Gabriele Vacis parte dal testo di Sofocle e aggiunge rimandi a tutti i tragici greci e all'attualità. Scene e costumi L'ambientazione è spoglia. La struttura del teatro è a vista. Non ci sono né quinte né fondali. A terra, al centro del palcoscenico, c'è una lunga pedana piena di terra. Gli abiti sono contemporanei, camice, pantaloni, tuniche dai colori neutri, nei toni del bianco, del beige e del grigio. Autore e regista Sofocle Nasce nel 496 a.C. ad Atene È uno dei maggiori poeti tragici dell'antica Grecia insieme ad Eschilo ed Euripide Scrisse 123 tragedie, di cui ne restano solo sette. I suoi eroi hanno una psicologia profonda. Sono buoni e generosi, ma con un lato malvagio. Per questo sono spesso soli. Gabriele Vacis è regista e interprete di cinema e teatro. Ha scritto e diretto numerosi documentari. Ha ricevuto importanti riconoscimenti in ambito teatrale. Nel 2006 ha curato la regia della cerimonia d'apertura degli Olympic Winter Games e di Torino, capitale mondiale, del libro. Info, prenotazioni e biglietti Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi, modalità di accesso e per prenotare la partecipazione ai tourtattili, contattaci all'indirizzo accessibilità-teatrostabile-torino.it o al numero 011-5169-460 Per organizzare al meglio la tua accoglienza, ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti contattandoci e specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria-chiocciola-teatrostabile-torino.it o al numero 011-5169-555 Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e in caso di necessità l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Grazie a tutti